Il plauso va fatto alla delegazione della Morgia che ha creduto in questo evento, un evento che fanno da tante edizioni ma lo scopo era di mettere, accendere i fari su quei vitigni meno conosciuti che poi sono diventati, sono un patrimonio del comparto enologico italiano. La biodiversità è fatta alla ricchezza dell'Italia, oggi abbiamo raggiunto dei risultati di esportazione importanti, abbiamo già scavalcato la frange e dato anche parecchio spazio, ma grazie al fatto che abbiamo questo patrimonio di biodiversità. Purtroppo sono conosciuti più i più importanti, ma chi è il vero volano che spinge all'estero nei mercati internazionali sono questi vitigni meno conosciuti ma di grande struttura. A me non piace chiamare vitigni minori perché in realtà sono dei vitigni che hanno delle radicalizzazioni sul territorio più antiche probabilmente di vitigni più noti. Però in realtà a volte si tratta di microvinificazioni, di vini che si producono in regioni probabilmente per un consumo territoriale e locale ma che poi pian piano grazie ad uno strumento di comunicazione che può anche essere il nostro diventano vini più conosciuti e più diffusi. Quindi abbiamo percorso tutta l'Italia dalla Val d'Aosta percorrendo e passando per l'Italia centrale, l'Italia meridionale e le isole incluse e ne abbiamo cercato davvero di particolari per farli conoscere non soltanto i sommelier ma un pubblico assetato di curiosità. Grazie a tutti.